Siamo con Bernardo Jovene di Report. Report è una trasmissione che ha portato in Italia a un nuovo modello di videogiornalismo. Secondo te questo modello sarà replicabile in un futuro prossimo anche su altri canali? È replicabile. Noi sono 15 anni che facciamo questa trasmissione. È un modello che se funzionava si doveva già replicare. Comunque sì, ci sono un sacco di trasmissioni che utilizzano il nostro metodo di impostare il servizio. Noi siamo dei videogiornalisti che utilizzano il proprio mezzo, telecamera, microfoni. Impostiamo il lavoro con un'impostazione one man band. Tu recentemente hai fatto un'inchiesta sui rifiuti campani. Secondo te come andrà a finire questa situazione? Io ho fatto un'inchiesta sulla mancata bonifica dei territori contaminati campani, che è il passaggio successivo a quello dello smaltimento dei rifiuti urbani. Lo smaltimento dei rifiuti urbani è stato risolto in tutto il mondo. In campagna prima o poi si risolve. Il problema è che c'è un territorio contaminato da bonificare e siccome anche questo settore è commissariato, si dovrebbe cominciare a fare qualcosa. Anche se sono dieci anni che c'è questo commissariato e purtroppo la situazione è che non si è fatta neanche una bonifica. No, non, 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 non... Grazie a tutti